Dove sono? Ma! Marco, oggi uno di noi sarà Noob e l'altro sarà God, altro che però, altro che però ragazzi! Allora, io ti do la possibilità di scegliere le chest che ho preparato io stesso, questa volta Fabio non c'entra niente. Una chest conterrà il kit da Noob e l'altro conterrà il kit da God. Vi dico solo una cosa ragazzi, dovete lasciare un mi piace perché ne vale veramente la pena, sarà una sfida assurda secondo me perché poi capirai. Quale scegli, rosso o blu? Allora, veramente sai che mi dice che il Noob ovviamente ha il colore rosso e l'azzurro in oceano sarà il God? Allora io ascolto la mia mente questa volta, quindi vado per il rosso. Allora, sei Noob, però hai un Ghost Rifle, ok? Cosa vuol dire? Che io apri la chest, guarda che cosa avrò. Io ho il kit da God estremo. La pistola purtroppo ci sta come arma perché io potrò mettermi invisibile quante volte vorrò praticamente con questa pozione di leggering. Ok, se la butto per terra ho 45 secondi di immunità e invisibilità. Ah sì? Davvero? Esatto. Come fai a dirlo? Tanto non mi trovi. Sei appena diventato invisibile ma sei... C'hai l'armatura. Ma come mi vedi? No, non mi incisole, non mi incisole! Non mi incisole, ma c'ho mezzo cuore! No, 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 non mi... Oh! Oh, vabbè. E la prima è andata? È andata! Ok, va bene, va bene, va bene Mi si è tolta pure l'invisibilità Quindi tu se puoi essere invisibilità Ma ci sono infinite quindi le tue pozioni di invisibilità Però non sono proprio invisibili Adesso sono invisibili Ah, ora sei, infatti non ti vedo Eh, da dove? Da dove? Ti ricordi che si arriva a 7? Ok Si arriva a 7 Ti vedo Ecco, no Là, no No, cavolo, sei impossibile da trovare Lì Lì Sei qua, sei qua, ti vedo Sì Quanti quelli ti ho lasciato? Eh, 4 Mannaggia a te, mannaggia Ti vedo Uh, via, via, via Dove ricaricare il gauss Dove ricaricare il gauss Sono un casino Eh, via là No, ti ho lasciato il sacco Eh, eh, ok Ok, calma Calma, calma, calma Sono invisibile Dove sei? Ma come sei invisibile? Sono invisibile In che senso sei? Ma sei qua Ti vedo Sei? Ah, ecco tu qua No, ma non è possibile Ma dai Dai, noob Non fare il noobere proprio Ma io non so Ah, ma anche io sono invisibile Eh, non mi troverai mai No, assolutamente No, non mi troverai mai Aspetta, eh Aspetta Dove sono? Ma Ci hai trovato? No Dai, ma che sbasta Ma non puoi giocare così Dove sei? Dove sei? Io ti ho visto da lontano Noob Noobino Aspetta che mi sto un attimo Cercando di mimetizzare Dove sei? Noob Eh Dai, non è possibile È che ti vedo l'arma Sei visto È troppo vicino E ti vedo l'arma Tanto si arriva a 10 Ciao A 7 si arriva Ma come si arriva a 7? A 7 si arriva Mi nascondo bene da noob con la dirt Ma mi faccio vedere Neanche se mi paghi Mi faccio vedere adesso Ma sai che non ti vedo realmente In questo momento? Davvero? Non ci credo Non ci credo che non mi vedi Te lo giuro Non ci voglio credere È bellissimo Aspetta Ma perché non so dove sei L'armatura di dirt È la cosa più bella Che ci possa essere Mi hai spostato? No! Mi hai spostato! Avevo capito Ma lì è ovvio che non ti vedo Erei proprio nascosto Eri Dai Però cioè così Stai un po' esagerando Eh Io guarda che ero Ero nascosto benissimo Non dire cavolate Per favore Cosa? Perché ridi? No 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 Da dove? Da dove? Eh Pistola? Ciao! No! Ti ho lasciato un sacco! Via 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 Eh Dove sei? Vedo tipo le particelle lì Che ti sei appena fatto l'invisibilità Qua? Eh Dove sei? Eh sì vabbè 4 a 4 Il recuperone di Marchwitz Io sparo a casa adesso Io me la sto fugando da qua Eh ho notato Che te la stai fugando per bene Spari da destra? Da Esattamente là? Che filo che mi hai fatto? Là? A casissimo questa L'ho posso giurare su questo video ragazzi Ho sparato Come hai fatto? Come hai fatto? A casa te lo giuro No via via Non mi vedi? Non ti vedo serio? Dove sei? Come non mi vedi serio? No dove sei? Sono nascosto Ma dove? Sono tipo vicino alla terra Capito? Dove? Fatti vedere Eh dove c'è la terra No 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 Ti ho guardato per un po' Per cercare di capire Per un po'? Ok Sto prendendo le pozioni in realtà Ma quante ne spammate allora No 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 da destra da sinistra Da dove da su giù destra Dove sei? Ehi fatti vedere Sei quella pecora lì per caso Ok sei esplosa Dove sei? Ehi Perché mi prendi a pugni? Non ti vedo Dove sei? No 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 devo ricaricare Sei qua? Qua! Mi sta tirando un sacco No 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 Quanti cuori hai? Scappa No! Quanti cuori avevi? Ho metà vita Dai Eh ma non si può Non vale così dai Eh ma mi hai dato l'arma più forte Che cui sono bravo E però Ciao Marci non sei invisibile Vuole morire No scusa Non sei ancora invisibile Ciao Marci Non sei ancora invisibile Ma non mi invisibilizza Perché non si Non ti Ora si Ma anche io sono invisibile Aspetta un attimo No come hai fatto 6 a 6 Se arriva 8 Lo so che sono a 6 Ma è vero che se arriva 8 Eh sì perché Ma anche te sei a 6 Ah ok E se arriva 8 perché Siamo 6 a 6 Deve esserci sempre due di scarto Ma la mia armatura Io l'ho finita Quasi Eh potrò diventare invisibile anche te Mezzo hacker Ok Ma tu dove sei? Ancora con questi pugni La smetti Non ce la farei mai Ah è una challenge Eh io adesso ti sparo a caso Così girando Perché se no Non ti vedo Sei senza armatura Davvero? Sì Dai dove sei? Eccoti No 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 Boom No mi sei saltato sopra E boom No scusa Non è invisibile? Non è invisibile E non vale No ora sei visibile Sotto i piedi No 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 giro Sono visibile No figlio ti sei visibile No guardami Ciao Ora dove sei pro? Ehi Ehi No Ti vedo l'arma No No c'ho due cuori Scappo No Che pelo Si arriva a 9 Che pelo si arriva a 9 Ragazzi questo è uno dei nube pro Più belli che abbiamo mai fatto Secondo me Forse quello è uscito meglio No Io vedo un sacco di parti Aiuto Basta Dove sei? Sono incastrato in qualcosa Mi stai togliendo un sacco di vita Quanto ne hai? In età No 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 Scappa Scappa Nubo Quanto ne hai? Vieni qua Nubo Che sbatta Quanto è mezzo cuore Quattro cuore È impossibile Ucciso No non si può A 10 è massimo però Cioè 10 è il massimo Ma non ci arriveremo Perché ora ti colpino con questo Oh cactus Oh cactus Ho finito l'invisibilità Calma che arrivo Arrivo Eh devo ricaricare Ti pareva Ti pareva che devo ricaricare Proprio in un momento più sbagliato Nooo Ora te la lascio tantissimo Ora me la voglio portare a casa Tranquillo Io tanto la sfida Perché sono io noob Quindi vinco sempre Aspetta eh Sei qua? Sei là? Ehi Ok Ma non è possibile però Noob Dai Noob è fortissimo Non ti preoccupare Noob è talmente forte Che adesso ti quanshotta Dalla parte opposta Della mappa Ma mi vedevi? Noob Mi vedevi? Sì ti vedevo Ah ma io Non funziona St'invisibilità No ma ti spiego Ti spiego Guarda come funziona Dammi una pozzetta No perché guarda Eh devi andarci sopra No a parte quello Sì di andarci sopra Quando tu te la lanci E visto che te la lanci sotto i piedi Tu andando avanti correndo Non te la prende E quindi è come se la saltassi Ah Ecco perché mi hai fatto tutte ste kill Allora Tu non me lo dicevi No ma Tipo l'ultime 3 o 4 Ti ho fatto Ah insomma La metà praticamente Le più importanti Va bene Dai Questa volta accetto che noob Mi abbia battuto Quindi ragazzi Ci vediamo Prossima volta Consogliateci una sfida A fare noob versus Questa è una cosa un po' inedita Che volevamo provare Per fare noob versus god Altro che pro E ci vediamo in un prossimo video Ciao a tutti Ciao